Benvenuti nel mondo degli orologi Mule Glasut. Mule Glasut è un marchio di orologi tedesco fondato nel 1869 a Glasut, nel cuore delle montagne della Sassonia. Il marchio si concentra sulla produzione di orologi di precisione, come orologi da pilota, orologi subacquei e cronografi. L'obiettivo principale di Mule Glasut è quello di offrire orologi di alta qualità che siano affidabili e precisi, utilizzando solo i migliori materiali e tecnologie all'avanguardia. Uno dei punti di forza di Mule Glasut è il suo movimento interno. Il marchio sviluppa e produce i propri movimenti in-house, noti come il calibro Mule. Questi movimenti sono famosi per la loro precisione e affidabilità, grazie alla loro costruzione robusta e di alta qualità. Inoltre, ogni movimento Mule è stato testato secondo gli standard di precisione del servizio di ispezione ufficiale dei cronometri tedeschi. Mule Glasut è anche famoso per il suo design elegante e funzionale. Gli orologi sono dotati di quadranti leggibili e di funzionalità specifiche, come cronografi, datari e indicatori di profondità per gli orologi subacquei. La maggior parte degli orologi Mule Glasut ha una cassa in acciaio inossidabile, ma ci sono anche modelli con cassa in oro o in titanio. La gamma di orologi Mule Glasut è vasta e comprende modelli per ogni esigenza professionale. Gli orologi da pilota, ad esempio, sono dotati di funzionalità specifiche come l'indicatore di zona oraria GMT e la funzione di cronometraggio di precisione. Gli orologi subacquei, invece, hanno una resistenza all'acqua fino a 300 metri e sono dotati di indicatori di profondità e di un pulsante di elio per la decompressione.